La Guardia di Finanza di Reggio Calabria e lo Scico hanno sequestrato beni per 40 milioni a due imprenditori in odor di mafia. È l'epilogo di una indagine patrimoniale coordinata dalla Procura nei confronti di due imprenditori di Gioia Tauro che sarebbero collusi con la cosca Piromalli-Molè, con la quale avrebbero instaurato un rapporto ben radicato nel tempo. L'aspetto criminale dei due era emerso nell'ambito dell'operazione Andrea Doria dell'aprile 2021 che aveva portato a 23 arresti e a un sequestro di 620 milioni di euro. Le indagini avrebbero disvelato un sistema di frode fiscale nel settore del commercio petrolifero, triangolazioni societarie finalizzate ad evadere l'IVA e le accise, con false dichiarazioni di intento, uno strumento che consente di acquistare senza versare l'IVA. Il gruppo avrebbe gestito tutta la filiera della distribuzione dei carburanti, dal deposito fiscale fino ai distributori stradali finali, interponendo tra queste due estremità imprese cartiera nel commercio di carburante, depositi commerciali e brokers locali, allo scopo di evadere le imposte. Le società dichiaravano di possedere i requisiti richiesti, così facendo beneficiavano delle agevolazioni previste dalla legge, acquistando il carburante senza l'applicazione dell'IVA. Il carburante passava poi da una società all'altra per essere venduto a prezzi concorrenziali a clienti ben individuati. La ripulitura degli incassi avveniva attraverso le famiglie di indrangheta interessate al settore della distribuzione dei prodotti petroliferi, colletti bianchi attraverso cui le concerterie riuscivano ad operare con profitto, inserendosi in un settore nevralgico altamente remunerativo. Su queste basi è stato disposto il sequestro del patrimonio dei due imprenditori, sei imprese attive, una ditta individuale nel settore agricolo, quote di una società immobiliare, nove fabbricati, di cui sette ubicati a Roma, cinque autovetture, quattro orologi di lusso e disponibilità finanziarie.